ciao a tutte bellezze oggi parliamo di eyeliner è un tasto dolente per molte ragazze so perché trovano difficile l'applicazione per cui ho deciso di farvi un video in cui vi faccio vedere un pochino i trucchetti che potete utilizzare e vi do qualche piccolo consiglio per rendervi la vita un po più semplice diciamo così allora nella prima parte cercherò di darvi un po qualche nozione in questo senso e poi nella seconda troverete nella seconda parte del video troverete comunque l'applicazione allora fondamentale capire quale eyeliner è più adatto a noi quali tipi ci sono in commercio allora ci sono gli eyeliner liquidi come questo questo qui che è il glamize di rimmel che questi eyeliner fluidi diciamo liquidi li potete trovare o con un pennellino di questo tipo che è un pennellino comunque con setole oppure li potete trovare con l'applicatore in feltro che io personalmente non amo particolarmente perché non mi trovo troppo bene quelli con la punta un po conica no io non mi trovo molto bene con quei tipi di applicatori poi abbiamo gli eyeliner in penna o anche le matite potete utilizzare tranquillamente per fare una riga e gli eyeliner in gel come questi io ho questo qui di kiko il lasting gel eccolo qui e ce l'ho anche di essence che però non amo per niente perché si secca subito comunque sono sempre fatti come vedete si è rotto proprio nel mezzo non ve lo consiglio per niente comunque ci sono tante brand che li fanno oppure ci sono anche in in polvere chiamati cake eyeliner non mi veniva la parola cake eyeliner che sembrano del degli ombretti in realtà sono polveri pressate però non sono ombretti perché utilizzando un pennellino umido diventano liquidi quindi un pennellino inumidito passate sopra e diventano liquidi ora questi sono di difficile lavorazione perché comunque si asciugano subito una volta stesi sì che insomma sono un po più da esperti però io ho fatto una carellata dei vari tipi di eyeliner che ci sono in commercio ovviamente dovreste provarli tutti per capire qual è quello più adatto io vi posso dare qualche consiglio perché non è detto che ciò che con cui mi trovo meglio io sia lo stesso anche per voi magari voi vi trovate meglio con un prodotto rispetto a un altro dipende dalla mano che avete dall'esperienza che avete da qua se vi tremo meno la mano questo io vi posso dare qualche piccolo consiglio per avere cioè come primo approccio ecco se dovete andare a comprare un eyeliner allora innanzitutto bisogna scegliere in base alla manualità che abbiamo cioè se noi abbiamo una mano ferma piuttosto ferma e siamo precise possiamo anche usare tranquillamente un eyeliner liquido perché comunque ci troviamo sicuramente bene se non siete molto tremolanti va più che bene se invece avete una mano piuttosto tremolante io cosa vi consiglio vi consiglio innanzitutto di optare per o un eyeliner in gel o quelli a penna o altrimenti proprio utilizzare le matite che io che secondo me è necessario per chi si approccia con gli eyeliner cioè io vi consiglio sempre di partire con una matita in modo tale che la matita crea meno soggezione è più precisa e poi eventualmente potete andare sopra con un eyeliner una volta che avete tracciato la riga perché comunque con la matita se è ben appuntata riuscite a farla sottile e poi sopra allora potete andare con un pen con un pennellino insomma comunque con un eyeliner di questo tipo a ridefinirla magari a scurirla leggermente però intanto il tratto l'avete fatto con la matita quindi il primo approccio ecco io lo farei con una matita per procedere magari con l'eyeliner poi quali accorgimenti ci sono per cercare di evitare di fare una linea tipo elettrocardiogramma per farvi capire allora innanzitutto gomiti appoggiati il gomito quando appoggiato alla superficie è sempre molto più stabile rende la mano più ferma rispetto a tenerla in tensione in questo modo io per esempio ho lo specchio attaccato al muro io mi avvicino sempre con il gomito e lo appoggio allo specchio in modo tale che faccio ho un punto d'appoggio e la mano è più stabile quando vado a tracciare la linea poi un altro piccolo trucchetto è cercare di trattenere il respiro ora ragazzi neanche dovete stare due minuti in apnea per carità del cielo però bastano 5 anche 10 secondi in apnea perché quando noi respiriamo le nostre le nostre mani il nostro corpo fa dei movimenti anche impercettibili per cui comunque sia anche respirando il tratto comunque subisce diciamo questi piccoli movimenti quindi cercate magari un attimino di trattenere il respiro e partite facendo dei piccoli tratti e iniziate a stendere quando sentite vi fermate e poi ritrattenete il respiro e continuate perché anche se sono piccoli movimenti anche impercettibili comunque alterano quello che è quella che è la vostra linea poi un altro piccolo accorgimento molti insegnano a fare anche dei piccoli trattini o puntini lungo la vostra la linea delle vostre ciglia in modo tale poi una volta fatti questi puntini o piccole righettine andarli a unire perché comunque già avete marcato la linea da seguire di conseguenza vi sarà più semplice poi stendere l'eyeliner e fare una linea un po' più precisa che non andare di sana pianta a fare la linea poi ci sono poi ragazze cioè è questione di esperienze soprattutto di provare 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 perché nessuno nasce imparato anch'io ho dovuto non sapete quante volte farlo l'eyeliner tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni per riuscire a farla più o meno diritta ecco cioè è comunque non tremolante l'esperienza aiuta non non è che dalla prima applicazione poi c'è chi è più portato anche per carità però sicuramente è l'esperienza che vi aiuta quindi voi dovete mettervi tutti i giorni se avete piacere di perfezionare la vostra tecnica mettervi tutti i giorni a provare e a tentare ora nella scelta dei pennelli da utilizzare ora a parte il fatto che cioè io mi trovo bene anche con gli applicatori però con gli applicatori che trovate nell'eyeliner c'è anche chi in realtà con quelli piccolini non si trova non si trova bene e quindi va alla ricerca di pennelli professionali tipo questi ci sono quelli a punta tonda questi qui oppure quelli a taglio ora c'è a taglio diagonale ora quando se voi volete scegliere un pennello di questo tipo che io lo preferisco rispetto a quelli diagonali ora nella scelta della punta non dovete né sceglierne una troppo sottile perché se siete alle prime armi dovrete essendo molto sottile vi farà un tratto molto sottile quindi dovete riandare nuovamente a ritracciare magari sopra la vostra precedente linea un'altra linea quindi se siete alle prime armi ve lo sconsiglio però nemmeno troppo grande con un pennellino troppo grande perché soprattutto se avete una palpe palpebra mobile piccola con una riga andato occupare tutta la palpebra e non c'è non si vuole questo per quanto riguarda invece il pennello angolato molti dicono che sia più semplice tracciare la linea io non mi trovo particolarmente bene perché è vero che con questo angolato riuscite all'inizio qui prendendo un po di prodotto lo applicate nella parte iniziale cioè appoggiate il pennello nella parte iniziale già vi ha tracciato l'inizio per quanto riguarda la codina finale basta che l'appoggiate così per dire e vi da già l'inclinazione il problema è che quando poi dovete tracciare la linea cioè all'inizio partite mettendole in questa posizione qui e tracciando la riga però quando arrivate nella parte finale dovete girare il pennello metterle in questa posizione qui e tracciare la linea da qui verso l'interno quindi va posizionato in due in due modi diversi man mano che tracciate poi c'è il rischio di farla troppo diritta dovete inclinare in maniera particolare il pennello quindi io per chi vuole iniziare a usare l'eyeliner lo sconsiglierei un pennello di questo tipo ha troppi accorgimenti ecco io andrei più sul facile più sul semplice per la codina finale per esempio io vi consiglio di utilizzare lo scotch se avete paura di non metterli alla solita altezza per esempio non fare le codine alla solita altezza utilizzato un pezzetto di scotch lo tagliate lo picchiettato un secondo sulle mani per non farvi la ceretta all'occhio e poi lo applicate nella direzione che voi volete un po come si fa anche per quando si vuole fare una sfumatura anche all'occhio è lo stesso procedimento però lo potete utilizzare anche proprio per la codina lo applicate qui e tracciate la vostra la vostra codina una volta quindi vi rendete conto anche di inclinarli entrambi alla stessa altezza quindi siete ancora più precise e poi una volta fatto l'eyeliner la riga d'eyeliner togliete gli scotch e trovate anzi questa linea perfetta veramente perfetta poi altro accorgimento è la forma del vostro occhio cioè chiaramente innanzitutto vabbè anche delle forme di eyeliner ce n'è un visibilio nel senso cioè quella appunto che segue l'occhio senza codina quella con la codina quello un po più spesso quello un po più sottile cioè ci sono tantissime forme vero è che in base al vostro occhio cambia un pochino quella che diciamo rende l'occhio un po più bello se per esempio avete una palpebra cadente un pochino più cadente così è chiaro che vi sconsiglio una riga d'eyeliner spessa cercate di farla sottile e soprattutto anche dargli un'angolazione verso l'alto per contrastare la palpebra cadente oppure se avete una palpebra piccola stesso discorso cioè una palpebra piccolina evitate di fare la rigona spessa anche se vi piace ragazzi tenetevi sul piccolo perché altrimenti vi scompare totalmente se invece avete un occhio arrotondato come un po' il mio anche lì io vi sconsiglio di fare la riga e fermarvi qui fate sempre la codina e soprattutto verso l'alto e poi cercate sempre di mantenervi diritte non non arcuate mai più di tanto perché altrimenti vi segna ancora di più l'occhio tondo cercate di farla più diritta possibile in modo tale da allungare lo sguardo senza tondeggiarlo ulteriormente poi vabbè se ci sono vabbè poi ci sono gli eyeliner un po' più correttivi per esempio per chi ha agli occhi come si dice agli occhi più vicini per esempio potrebbe fare la liga di eyeliner sopra e anche sotto perché dà l'impressione di come si dice dà l'impressione che gli occhi quindi si diciamo siano più distanti se voi fate la linea del eyeliner sopra e poi la congiungete anche sotto dà questa impressione di occhi un po' più lontani ecco quindi ci sono anche delle tecniche correttive però questo discorso è un discorso a parte ultima cosa ragazzi che volevo dirvi è che non fossilizzatevi sul fatto di avere delle linee uguali precise identiche perché non succederà mai noi non siamo simmetriche non abbiamo gli occhi simmetrici e perfettamente uguali perché in ogni caso ne avremo sempre uno un pochino più su rispetto all'altro oppure leggermente con la palpevere leggermente più piccola rispetto all'altro cercate di dare innanzitutto nessuno sarà lì col binocolo e col microscopio a guardarvi la vostra linea assolutamente no quindi tenetevi lontane quando l'avete fatta cercate di tenervi lontane e di guardarvi allo specchio se vedete un risultato armonico è quello l'importante va bene non vi accanite sul volerla fare identica perché magari non vi verrà mai se seguite soprattutto la linea del vostro occhio ovviamente non avendo gli occhi uguali per forza di cose vi risulterà leggermente diversa ma l'importante è che siano delle linee armoniche mantenetevi sulle solite altezze cercate di correggere un pochino e di farle più uguali possibile ma non vi fossilizzate l'importante è che quando vi guardate allo specchio il risultato che vedete è armonico l'uno con l'altro nessuno sarà lì ragazzi col microscopio a guardarvi se una è leggermente più alta rispetto all'altra o una è un pochino più spesa rispetto all'altra cercate di fare il vostro meglio poi in ogni caso c'è ognuno ha una mano diversa dall'altra potete decidere anche per esempio c'è chi tiene l'occhio chiuso totalmente e tira la palpebra quando stende la riga c'è chi come me invece tiene l'occhio semi aperto perché io ho bisogno di seguire diciamo la riga delle mie ciglia e di vedermi mentre la faccio questa cosa poi è questione di abitudine e poi di manualità ecco di esperienza io ho trovato il mio metodo quello che mi è più semplice per me magari poi per un'altra persona può essere può essere diverso e e poi soprattutto io vi volevo consigliare una cosa quando cioè fate pratica quando vi dovete struccare cioè non fate non create mai non provateci mai a fare delle linee liner quando siete magari perfettamente truccate con uno smokey eyes perfetto che magari dovete andare una serata e magari vi tentate lì di cioè di vedere se vi riesce a farvi la riga non provate in quelle circostanze perché se magari poi vi viene non vi viene bene e la dovete togliere cioè vi rovinate tutto il trucco quindi provateci quando vi dovete struccare quando vi andate a struccare magari la sera provate mettetevi lì a far la riga male che vada tanto dovete dargli tutto quindi dov'è il problema io vi consiglio di farlo in quel momento lì per il resto io penso di avervi detto tutto adesso vi lascio all'applicazione spero di esservi stata utile e poi ve l'ho detto ragazze cioè è questione proprio di pratica voi non dovete scoraggiarvi so che non è semplice anche per me non lo è stato perché soprattutto i primi tempi cioè avevo deciso anche di non farla più dicevo non la farò mai non mi riuscirà mai assolutamente tenaci cercate di avere mille accorgimenti cercate di stare tranquille soprattutto appoggiate i gomiti e vedrete che poi giorno dopo giorno dopo giorno vi verrà talmente naturale che non avrete più problemi io nel frattempo vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte bellezze eccoci ragazzi all'applicazione allora io vi faccio vedere l'applicazione con l'eyeliner fluido il glamize di rimmel e ve lo faccio vedere proprio con il suo applicatore preferisco farvi vedere questo piuttosto che con l'ausilio di pennelli come questi perché penso che sia il primo approccio che avete con l'eyeliner quando la date a comprare cioè utilizzando il pennellino in dotazione una volta che ci prendete di mestichezza potete anche provare con pennellini di questo tipo quello angolato o quello comunque a punta tonda a parte che poi fondamentalmente come questo solo insomma li trovate di varie dimensioni e niente potete provare anche usare un pochino di più con strumenti un po più professionali però il primo approccio che avete sicuramente col pennellino in dotazione io appunto nel mio caso io ce l'ho così come vedete sottile sottile a punta diciamo a punta tonda con setole io non uso quelli in feltro perché non mi trovo molto bene è più difficile secondo me il tratto con quelli lì comunque partiamo spero che riusciate a vedere bene perché fondamentalmente non è molto semplice col col cellulare però spero riusciate a vedere bene allora innanzitutto abbiamo detto nella parte iniziale deve essere molto sottile la linea andate a spessirla man mano che vi muovete verso la codina finale allora io quello che faccio io è questo io parto così all'inizio tracciando una linea sottile voi rimanete cercate di rimanere sempre vicino alle vostre ciglia ora io nel mio caso siccome sono un po più pratica mi allontano perché poi la vado a riempire comunque mantenetevi sempre con il tratto molto vicino alle vostre ciglia in modo tale che l'andate a spessire successivamente man mano che vedete che la linea prosegue continuate nel mio caso prendo un altro po di prodotto e andate pian piano non fate la linea subito netta perché comunque è tutta insieme perché soprattutto se accetta le prime armi sarà difficile che vi venga precisa gomito sempre appoggiato andate a ridefinire se magari è più chiaro l'inizio rispetto al resto della vostra linea ok e poi continuate più andate piano ragazze più siete precise evitate di fare le cose di volata perché tanto se no vi verrà sempre tremolante un pezzettino per volta come vedete un piccolo pezzettino per volta quando arrivate verso la fine potete decidere cioè o vi fermate nel senso terminate terminate con la fine del vostro occhio però soprattutto come nel mio caso che io ho occhi comunque piuttosto tondeggianti non mi piace finire alla fine del mio occhio perché mi farebbe l'occhio ancora più tondo io a un certo punto quando arrivo più o meno in questo punto qui cosa faccio per fare la codina finale faccio così traccio la linea prendendo più o meno a riferimento la mia rima inferiore dell'occhio e poi in direzione della codina finale delle mie sopracciglia e traccio una riga di 5 mm comunque lì potete scegliere voi e poi la vado a ricongiungere con la riga che avevamo fatto precedentemente eccola qui adesso non vi resta che colorarla la potete fare più alta aspettate la potete fare più alta più bassa più tonda più diritta per esempio a me adesso come vedete tende ad andare verso il basso a me io poi l'aggiusto in base al tipo in solito al tipo di trucco che vado a fare poi anche in base a come mi piace di più a me la la riga quel giorno a volte mi piace più più sottile a volte mi piace più spesa non lo faccio sempre uguale e sistemo la parte più alta eccola qui cercando di farla più diritta possibile eccola qui sistemo un po' all'inizio che avvicinandomi un po' alle ciglia eccolo qua e così procedo anche dall'altra parte stessa cosa ragazzi mi raccomando partite molto vicino alle vostre ciglia rimanete sempre vicine magari potete fare piccoli tratti e poi unirli insieme partite molto sottili nella parte iniziale e poi man mano andate ad ampliare la vostra linea quando arrivate nella parte finale appunto abbiamo detto fate una piccola linea più o meno in prosecuzione della vostra rima inferiore con la direzione verso l'angolo verso la parte finale sì la punta finale del vostro sopracciglio perché più o meno è quella l'inclinazione che dovrebbe avere per avere uno sguardo un po' più allungato un po' più da gatta tra virgolette quindi prendete l'inclinazione verso l'angolo del vostro sopracciglio verso la punta del vostro sopracciglio e fate più o meno vi rendete conto l'inclinazione e poi andate a ricongiungere la vostra linea alla puntina qua giù riempite potete a quel punto decidere se la volete fare più sottile più spessa più lunga quello poi decidete comunque più o meno è questo mi raccomando ragazzi andate piano cercate di stare sempre con i gomiti appoggiati al vostro tavolo specchio davanti e vedrete che giorno dopo giorno migliorerete sempre di più non è così difficile anche per me non è stato semplice all'inizio poi insomma viene abbastanza viene abbastanza semplice dopo mesi e mesi di prove comunque già dalla seconda applicazione vi renderete conto che non è così difficile come si può pensare io vi mando un bacio al prossimo video ciao bellezze grazie a tutti Grazie a tutti